3, 2, 1, ci siamo, primo point, abbiamo bisogno della sigletta, se qualcuno in ascolto deve mandarti una sigla o cantare una sigla di primo o poi sappiate che le stiamo valutando approfonditamente, Max sei nominato giudice supremo delle sigle, chi meglio di te? E poi se è veramente figa andiamo a Sanremo, ma solo se è figa. Esatto, e dove tu canterai con la tua vocina, non so se è la voce tenebrosa, è la voce da primo o poi o la voce rauca? Sono le prove di Sanremo e quindi mi si è abbassata la voce, dunque là. Abbiamo un po' stecipato la registrazione perché Max ci ha ammalato il messaggio un po' l'altro giorno e sembravi, sai che l'ho ascoltato la sera tardi, mi sono quasi spaventato, mi ricordavano quelli che ti chiamavano e ti facevano l'ansimo al telefono e dicevi ma chi è, chi è? Te lo ricordi quando c'era il telefono visto? Non riusciva nemmeno a fare un vocale e poi ce l'ha fatta. E stanotte miracolosamente è guarito. Ho provato N sintetizzatore, hai di tutto, clonare la voce eccetera, non siamo ancora arrivati, manca un po' ancora. Però io tra avere la tua voce roca, che è molto sexy secondo me, molto tenebrosa, sexy, e avere il mio baffo che mi hanno obbligato a fare in famiglia perché è Movember, capito? Il novembre in Inghilterra è il Movember dove tutti hanno il baffo per la charity, per raccogliere i soldi per la charity e basta. Preferirei invece avere la tua voce invece del baffo. Non ho mai avuto il baffo da ispettore in vita mia. Stai bene, lo tengo. Puoi tenerlo. Che mastardi. Lo assottiglierei un po' forse, non so, è un po' robusto. No, pensavo di farlo quello un po', ho capito? No, esatto, se scende un po' è Paul Kogan. Più cattivo, più cattivo. Sentite, lo so che dobbiamo parlare di Trump e tutte quelle venate lì, ma io non posso. Stiamo cercando di ritardare il momento in cui parlare di Trump. Non posso, a parte che, vabbè, l'abbiamo previsto, tutti i sondaggi hanno ciccato e noi l'avevamo previsto, insomma, questa è una grande capacità di analisi. In politica, ma a prescindere da quello, cioè non posso non partire da questi che ho visto. No, questa è più importante. Mi sembra decisamente più importante. Allora, questi sono dei pazzi furiosi veri, questi due founder. L'azienda si chiama, startup si chiama Reflect Orbital. E l'idea è quella di dire, ma perché non riusciamo a creare il sole sulla terra anche di notte? E in pratica l'idea è questa. È ancora un prototipo, ovviamente. Hanno fatto un test dove sono andati sulla mongolfiera per dimostrare la fattibilità. Loro manderebbero nello spazio tutta una serie di specchi che riflettono il sole e quando è notte orientano. C'hai l'app e tu sei tipo la centrale solare, capito? Una di queste centrali fotovoltaico, gli impiati fotovoltaici, che dici, ok, ma io di giorno c'ho il sole, ma la notte non ce l'ho. Non c'è problema, gli compri il servizio e con l'app dici, puntami il sole di qua alle tre di notte. E loro ti puntano e ti arriva il sole e ti ricaricano. E insomma, mi sono sembrati dei pazzi furiosi veri e soprattutto, ragazzi, cioè io dico questo. Io comunque non sono mai stato così da startup, col cappello lungo biondo, che sembra un attore questo. E poi dico, e adesso mi lancerò nello spazio. Cioè, ero in via soperga con blogosfere triste a fare le riunioni con i centri media. Non so come dire, cioè, queste realtà le trovo affascinanti, ma dall'altro lato dico, ma porca paletta, ma com'è che sono sempre gli altri? E poi cosa può andare storto, insomma, mettere vagonate di specchi nello spazio, invertire il giorno e la notte? Una serie di cose potremmo adesso, però, insomma, ve lo segnalo, come vi sembra? Sì, sì, sono partiti umili sicuramente, perché, cioè, l'obiettivo, perché loro vogliono mettere degli specchi di Mylar di 100 metri quadri, quindi 10x10, tirandoli su con un satellite, ma non so se avete notato che ogni satellite che mettono su in un'orbita LEO, o quindi un'orbita tipo quella di Starlink, per capire sui 500 o 600 chilometri. Quindi non sono neppure geostazionari, quindi loro devono cercare di orientare solo per piccoli periodi lo specchio sul campo solare che ha comprato il servizio. Quindi è una cosa proprio facilissima e soprattutto dovrebbero metterne su, diciamo, migliaia, no? Quindi proprio come Starlink. Contano di metterne 250.000, questa è la loro, diciamo, strima. Ogni campo solare deve averne uno, perché chiaramente punta solo su uno, cioè... Secondo me al pitch del VC, il VC gli ha detto, dove la compri è buonissima. Cioè qui siamo a un livello... E poi ha chiesto un seed da 50.000 euro per... Esatto, ma la domanda dove la compri è buonissima, secondo me gliel'hanno fatta. Adesso ci smentiranno subito con un round a un miliardo. Leggeri con un safe da un miliardo così sul convertibile. Secondo me di sicuro loro prendono un round gigantesco, però io penso questo, che alla fine dei conti Elon farà sta roba. Cioè Elon dirà, ragazzi sai cos'è? O vi compro io, peraltro non so se uno di sicuro esce da SpaceX, non so se entrambi escono da SpaceX, però pensiamo a questa roba qua. Elon una volta che ha il controllo dello spazio, dice tappezzo io, dispecchi lo spazio e ti do l'energia, te la porto dallo spazio, fine del discorso, dimmi dove vuoi il sole e io te lo faccio. Cioè inizia a controllare anche quella roba lì. Quando non riusciamo a fare più di cinque minuti senza parlare di Elon, non so se lei è un disastro, comunque effettivamente adesso Starlink sapete che sta passando alla versione 2 dei satelliti, che pesano 800 kg, sono più grandi e fanno anche la telefonia mobile, quindi proprio un ulteriore passaggio. Ogni lancio col Falcon 9 loro ne tirano su 60, quindi con pochi lanci, anche di questi ne possono tirare su 250.000 con pochissimi lanci. Da gennaio con Trump farà almeno 10 lanci al giorno. Ma poi la versione 2 di Starlink è più pesante, quindi ne porta credo 20-21 per lancio, quindi cioè diventa più complicato, più ampio, ma con una missione più ampio, perché anche esportare il mobile, chiaramente con la banda mobile sui territori non coperto è anche un'altra roba rivoluzionaria. Lo vedi però? Io li vedo comunque a parlare con lui e a provare a farlo. Assolutamente, anche perché... Non so se mettere uno specchio a ogni satellite di Starlink perché c'è una già 10.000 o 12.000. Esatto. No, in realtà loro dicono, noi metteremmo per ognuno che vuole servizio, magari anche tu dici, oh io in giardino la notte voglio il sole, fino a storia. Un classico. Un classico, io voglio il sole, perché voglio il sole, cazzo, le tre di notte, non so perché. Con l'app loro mettono insieme più specchi che concentrano, capito? Si specchiano così. Però a prescindere, diciamo, dalla provocazione e poi come al solito questi magari diventano Nembo Kid e come al solito uno dice, ma questi qua sono fuori di testa e invece poi c'hanno ragione loro. Io non lo so, sono abituato insomma a essere smentito. Però la cosa secondo me interessante è che di fatto noi oggi abbiamo un nuovo App Store che è lo spazio. Cioè quando noi siamo partiti a Val Startup non è che tu dicevi adesso faccio la Startup nello spazio, era impossibile, non potevi farlo. Oggi invece tu hai SpaceX che è come fosse l'Apple Store e su questo Apple Store con i costi che andranno sempre più giù, loro ti dicono, oh vuoi lanciare il coso per illuminare? A quel punto puoi fare attività nello spazio che un tempo erano proibite. Per me ci sono tre App Store oggi, c'è l'App Store dello spazio, l'App Store della robotica e l'App Store dell'AI. Cioè sono tre App Store nuovi che sono interessanti. Però io il cappello come questo fondatore, porca paletta avrei sempre sognato di averlo, mannaggia. È vero, è vero. Fluente, fluentissimo. Bannerina dietro. Proporrei, visto che parliamo spesso dello spazio e ne capiamo veramente il giusto, di invitare il founder di The Orbit che è veramente una cosa di grandissimo successo che se ricordate è appunto per lavorare sulla pulizia delle orbite, sui detriti spaziali, tutto poi comunque è evoluto in altri modelli anche e sarebbe bello effettivamente. Anche perché in Italia si spiega un po' di cose forse. Sull'aerospaziale c'è cultura, investimenti, ci sono sempre stati, ci sono i ragazzi, vabbè non è spazio però i ragazzi di Black Shape che in Puglia hanno fatto degli aerei in fibra di carbonio che sono diventate le piattaforme per tutti gli istruttori di volo. Cioè Argo Tech, l'ho intervistato il founder di Argo Tech un po' di tempo fa, ma ce n'è un sacco. Sì, dobbiamo approfondire questa roba spaziale anche perché appunto sarebbe curioso comprendere quali sono le reali possibilità. Magari questa scopriamo che diventa la figata cosmica del secolo insomma. E per parlare di Elon Musk un'altra volta, avete visto quando si affiancava Trump e aveva la maglietta Occupy Mars, quindi... Col figlio sulle spalle. L'orbita è nulla ovviamente. Col figlio sulle spalle. Col figlio sulle spalle. Sentite, lasciamo lo spazio e andiamo nell'iper-uranio con l'elezione di Trump e quello che succederà. Un dato che mi sembrava interessante per non parlare di Elon è che lui comunque oltre al suo tempo ci ha anche messo un cento e passa milioncini di dollari per sostenere la campagna. Questo mi era sfuggito. Che c'era un Twitter ieri, dicevano considerando che Tesla ha fatto negli ultimi tre giorni più 13 per... No, ha fatto un più... Ha fatto 21 miliardi di net worth. No, ha fatto 100 billion. Sì, no, lui stesso ha fatto 21 miliardi di net worth. 13, calcolavo. Cioè 100 billion ha fatto Tesla in market cap di cui lui c'è il 13 in tre mesi mi ha messo 100 e ha preso un discreto ROI cioè non è banale come cosa non è affatto... Poi, voglio dire, non è stato l'unico perché c'è Coinbase che ha fatto più 35, più 40 sul tema delle cripto però, voglio dire... Bitcoin è microstrategy anche. È Bitcoin, è microstrategy Bitcoin alle stelle. Il motivo, scusate per chi non fosse pratico di Bitcoin per cui è andato su e adesso ci sono enormi aspettative ovviamente su Bitcoin è che Trump si è fatto tutta la campagna posizionandosi come il cripto presidente quindi ha detto se mi votate è andato alla Bitcoin Conference a fare tutto il suo speech se mi votate considerate che io porterò diciamo make Bitcoin great again lo miniamo qua negli Stati Uniti facciamo la riserva in Bitcoin del governo americano cripto, cripto, cripto licenzio Gary Gensler della SEC che è sempre stato molto contrario e quindi creerò un ambiente favorevole e questo inevitabilmente porterà diciamo se immaginiamo gli Stati Uniti domattina comprano un 10 miliardi di Bitcoin o qualunque cifra che decidono di comprare tutti i governi a quel punto dicono che faccio? La Meloni dice ma io non lo compro Bitcoin ma tu hai due Bitcoin magari devi comprare anche tu quindi diventa come dire un effetto cascata con un impatto ovviamente anche sul prezzo quindi questo è un aspetto ma secondo voi diciamo si possono scazzare Elon e Musk e Trump perché comunque sono due caratterini che non mi sembra facile tenere insieme nella stessa stanza cioè è un matrimonio idilliaco che andrà avanti a lungo o ad un certo punto Elon dice ascolta ma io voglio far quello che voglio oppure vuole fare l'efficienza del governo poi non gliela fanno fare e poi si stufa dice basta allora non gioco più mi porto via la palla e allo stesso modo Trump è anche uno insomma che non sono caratteri semplici con cui collaborare immagino quando Trump ha detto a new star is born mi ha fatto un po' ridere proprio new non è Elon e lì ho pensato hai ragione nel dire questo secondo me si scazzano solo se lui non mantiene le promesse Trump di Elon che ci sono state evidentemente e c'è da dire questo che Elon ha fatto veramente ha contribuito tantissimo a questa ma non solo economicamente perché anche sul feed di di X di Twitter di cui tutti parlano è cambiato era pro-Republican eccetera in realtà un uomo con 200 milioni di follower se lo segui cioè voglio dire il feed era completamente orientato su di lui io penso che si scazzino solo se Trump non mantiene e penso non lo faccio insomma può? e non ci sono motivi al momento secondo me allora l'altra volta avevamo come dire un po' ipotizzato un po' diciamo fra il serio o meno che puntasse la presidenza nonostante appunto non fosse nato in US però cambia la però cambia la legge cioè che non è facilissimo certo che adesso ha una bella maggioranza ampia quindi magari farà anche cambia fa cambiare tutto però alla fine al di là del del fatto lo può diventare o non può diventare perché è nato a pretorio dove è nato insomma comunque non è nato negli States in realtà la riflessione da fare è che forse lui potrebbe già fare un po' il presidente ombra di questa amministrazione no? cioè quindi in qualche modo influenzarlo fortemente perché siccome chiaramente US è molto basata cioè i temi diciamo tradizionali Trump se li gestisce e lo sappiamo insomma lo ha già fatto e insomma senza fare grandissimi cambiamenti peraltro ha chiaramente un atteggiamento conservatore e sappiamo come è posizionato tutti i temi di futuro chiaramente Trump si trova in difficoltà perché chiaramente non li capisce anche per un problema proprio di diciamo di anagrafico e quindi secondo me diventa complementare ma in qualche modo diventerà un po' quello che ispira i cambiamenti quando parla di efficienza no? o quando dice che praticamente il nucleare alla fine deve far meno paura di quanto non debba farla perché perché in realtà diciamo sì negli anni le centrale nucleare hanno creato vittime ma molte di più l'energia diciamo da carbon fosso tutta l'energia insomma tradizionale che chiaramente lui continua a dire Trump continua a dire no? baby drill che no? Trivella Trivella che poi era una cosa delle Repubblica nel 2008 che lui ha preso ha ripreso e ha spinto quindi anche la creazione di energia chiaramente hanno due posizioni un po' diverse sul come creare energia però nella realtà dei fatti poi chi parla di futuro è lui quindi gli starà dietro e credo lo possa influenzare fortemente più che credo insomma mi sembra che certamente il problema caratteriale esiste questo esiste su tutti i leader e quindi ci potrà essere però può darsi anche che vista l'età appunto si possano completare perché uno capisce alcune cose e uno ne capisce molto di altre cose poi poi devo dire noi stiamo facendo dei commenti molto diciamo neutri politicamente stiamo analizzando la cosa perché poi posso pensare ok ha vinto Trump se senti non so gli amici che abbiamo negli Stati Uniti non è che siano contentissimi perché poi chiaramente il voto è venuto dalle aree rurali soprattutto chi abita nelle grandi città o chi oppure chi c'è molto scontento a New York c'è uno scontento altissimo ovviamente anche se poi tutti sono a fare anche in California ovviamente e quindi beh dove in California solo il voto credo fosse oltre il 60% per Kamala comunque sembra comunque è evidente quindi diciamo stiamo ovviamente omettendo tutta la parte politica no ma questo perché non spetta a noi questo punto stiamo cercando di analizzare cosa potrebbe succedere secondo me esatto il discorso di un presidente in qualche modo cioè che fa da contraltare un presidente così nell'età e con una visione così sì ma qualcosa di più di un advisor anche perché scusa scusa Max è la prima volta nella storia della politica che tu hai diciamo un advisor come lo chiami tu Max che oltre però a dirti magari quelle che sono delle cose interessanti da fare perché ha una capacità insomma di comprensione del futuro il futuro lo crea anche ed è la prima volta che c'è uno che ha anche tutta la parte militare a disposizione perché tutta la parte spaziale la fa lui quindi come dire è un'arma strategica fondamentale per gli Stati Uniti ha un media intero che è suo c'ha un sacco di soldi quindi è il più ricco di tutti e ha mille altre e poi c'ha vabbè Tesla tutte queste cagate che non le considero neanche ma la cosa incredibile è che non è mai successo che ci fosse un personaggio così se no il consigliere era non so che consiglieri ci sono stati nel mondo della politica di tutto di più ma metti che Mardock fosse il consigliere ci aveva il media stop non è che ci aveva tutta questa capacità anche di di produzione che non è banale l'altra cosa che su cui volevo una vostra opinione che magari uno sottovaluta è che poi Elon può attrarre gente che non avrebbe mai fatto nulla per la politica oggi ho visto un tweet di Naval Rabicant che è quello di Angel List che è un ottimo pensatore insomma oltre a essere investitore eccetera che ha detto io ci sono se se volete io faccio qualcosa non avrei mai fatto nulla per il governo ma ma se c'è Elon come dire io un salto lo faccio una mano la do e lui ha questa capacità di attrazione strepitosa dove può tirar dentro della gente che oggettivamente mai si metterebbe a fare della roba per la politica ma se c'è lui dice va bene e questo ha anche un bel vantaggino penso Max allora assolutamente sì c'è da dire una cosa che se dovesse avere così tanta passione perché qui parliamo di passione gli interessi uno che ha 250 billion li metterei da parte sì vorrà arrivare a un trillion ma lo ha già dimostrato che non è che gli interessi quello se lui ha così tanta passione probabilmente comincerà o gli chiederanno di uscire da alcuni board o da alcune robe io penso si dedicherà di più e tornando a quello che voi stavate dicendo io penso che in dieci anni nelle prossime elezioni non è escluso pensare che un Zuckerberg fra venti un Seymaltman possono candidarsi perché la differenza tra l'americano in questo caso imprenditore e un europeo cioè Berlusconi aveva 5 billion 3-4 di patrimonio cioè qui stiamo parlando di 250-300 a crescere ora questi vedono il loro paese come una start up a cui dedicarsi come I wanna fix it e hanno una capacità incredibile sono dei workaholici non gliene frega nulla lo dicevamo nelle altre puntate di andarsi a divertire o di far vacanze per cui questa gente a un certo punto comincerà a dire ok ho fatto questo ho fatto quest'altro super successful ho accumulato questa ricchezza what's next mi dedico e mi candido questo scatenerà l'effetto Elon che lui si possa candidare non si può ad oggi non si può ma Zach che in passato avevamo già visto quando aveva fatto il giro di tutti gli stati quando voleva non è lo vedo abbastanza prevedibile anche perché scusate classe politica gli imprenditori poi sono quelli che sanno come fare le cose però a differenza dell'Europa o dell'Italia dove magari cioè tu dici no non vado a rischiare la mia reputazione ah mi rovino la vita qui se ne frega nulla perché comunque hanno già fatto tantissimo quindi questo è l'effetto che mi aspetto che si scatenerà in futuro che probabilmente se ci riflettete vuol dire avere persone con competenze saranno le prossime elezioni fra quattro prendiamo quelle ancora dopo otto anni dove avremo un AI stabile avremo una super intelligence avremo lo spazio conquistato e lì ci vuole gente con competenze un'altra previsione che mi azzardo a fare oltre al fatto che secondo me litigano invece Trump e Elon mi sembra inevitabile che si scazzeranno ma il motivo sarà non lo so però a tavola non c'era il coperchio con la scritta ex ma y capito magari è una roba così perché non sai quei caratteri ma secondo me un'operazione che faranno considerando quanto entrambi detestano anche giustamente i media tradizionali secondo me metteranno in pista diciamo una un sistema di comunicazione basato su tutti i media che non sono tradizionali per cui un peso sempre minore dei soliti noti New York Times e un peso sempre maggiore dei vari podcaster che hanno determinato poi la vittoria perché a quel punto sono in grado di bilanciare se no quella che è l'informazione che uscirà che inevitabilmente appena inizieranno a fare qualunque attività che decideni di fare anche la migliore il media tradizionale che è schierato politicamente contro darà addosso e porterà come dire una percezione nel pubblico differente quindi devono bilanciare questo non può essere solo ex e per cui mi immagino anche delle conferenze stampa dove inizieranno a dire ok ragazzi dentro Joe Rogan Lex Friedman l'anteprima non la diamo a capito al Wall Street Journal l'anteprima la diamo a Mr Beast cioè non so capito delle robe totalmente diverse perché sono entrambi molto affini sia Elon che Donaldo per cui non so anche sui media sì quello che diceva torniamo su quello che diceva diceva Max sulla trazione dei talenti al governo che è sempre stato un problema della politica perché comunque a dire la verità lo dicevo io però sono contento che la attribuiamo a Max questo come diceva Monti scusa col baffo l'ostituzione col baffo è importante col baffo mi sono sbagliato si si assomigliate molto adesso mettete i cappellini a Max o mettete i cappellini di colore colorati così posso capire uno rosso e uno blu io sono con questo sfondo blu non capisco molto non vedo neanche capito allora come diceva Monti giustamente però è venuto raccontare la mia esperienza personale al governo perché non trascuriamo che mi sono fatto quattro anni di consigliere per l'innovazione a Palazzo Chigi quindi ho potuto notare tu che qualcosa hai fatto qualcosa ho fatto anche io e ci hai lasciato anche tu il pezzettino di fegato esatto perché non è facile effettivamente quando sei lì a fare le cose però la cosa credo giusta con le dovute proporzioni ovviamente rispetto a Italia Stati Uniti rispetto a le cose che si possono fare da qui quando ho fatto il progetto Italia Login che poi è sfociato in tutto quello che oggi usiamo l'app io lo speed la carta di identità elettronica sono tutte le cose che usiamo oggi dell'ecosistema che finalmente abbiamo un'infrastruttura abbiamo developers.it designer.it designer.it abbiamo un'uniformità di tutti questi dei media diciamo che comunicano dal governo e dalle amministrazioni quello a cui volevo volevo farvi notare che quando abbiamo creato il team per la trasformazione digitale quando è arrivato anche ad affiancarmi Diego Piacentini appunto da Amazon per qualche per gli anni in cui è stato commissario della trasformazione digitale le cose hanno funzionato perché hanno funzionato perché siamo riusciti a prendere nel team circa 25 talenti presi sostanzialmente dall'industria in cui facevano veramente queste cose le facevano da anni e hanno detto ok facciamo una sorta di servizio civile di un paio d'anni retribuito ma non troppo perché comunque chiaramente nell'amministrazione pubblica non è che hai lo stesso stipendio io feci tutto pro bono ma così per un motivo di trasporto ho messo questa voglia di vedere un po' di digitale fatto bene nel paese pro bono significa gratuitamente gratuitamente senza pagando treni e hotel quindi senza nemmeno non volevo proprio c'è peggio insomma c'è l'unica cosa che alla fine mi hanno fatto ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Etana veramente riconoscendo che sono ufficiali ma dai sono passato direttamente da Cavaliere Ufficiale direttamente ti hanno fatto con la spada dietro in ginocchiato quando lo fermano Paolo mi farò il saluto quando lo fermano assolutamente mi ci vedo benissimo in quel ruolo però a parte la difficoltà ma poi essere riuscito a sbloccare delle cose che erano ferme dal 2000 effettivamente le persone del team avevano una tale capacità di creare prodotti e di riuscire a trascinare grazie ai fatti avanti le cose che ha fatto veramente la differenza quindi in proporzione il fatto di riuscire ma mai saremo riusciti a portare a bordo persone che comunque magari in passato avevano fatto o start up oppure imprenditori che si erano presi anche loro due anni diciamo di sabbatico per aiutare e così via quindi creando un team che parla questo tipo di linguaggio o comunque che vede un po' che ha un po' di visione di futuro non legato alla politica perché consideriamo che chiaramente era un team molto pragmatico anche il mio progetto era molto pragmatico non per niente è stato portato avanti a livello bipartisan fino ad oggi perché tuttora è tutto portato avanti e ecco può essere una possibilità di riuscita che probabilmente dovremmo continuare a fare anche in Italia non solo pensando agli Stati Uniti dove questa cosa probabilmente accadrà per il motivo che dicevi tu Monti prima che gente come Elon può portare a bordo come dire dei suoi simili che hanno la stessa volontà di migliorare l'efficienza lui si è proposto con questo ufficio che se non sbaglio si chiama DOGE molto simile al l'acquisto Department of Government Efficiency e non è a parte che credo che il punto fondamentale di questa efficienza ahimè sia il taglio diciamo che normalmente le big tech fanno nell'organico grazie per il problema appunto di dover far tornare conti a cosa che evidentemente nell'amministrazione pubblica non puoi fare il taglio intendi licenziare persone mandano a casa a persone perché chiaramente molte cose possono essere fatte con molte meno persone cioè è evidente in tutto il mondo è così ormai però chiaramente lì non lo puoi fare perché non è quella la tecnica quindi sarà interessante capire come pensa di dare questo tipo di efficienza e ancora di più come attrarre persone a fare cose che appunto dal mercato però lui ha detto in uno in un Q&A in un town hall lo chiamano qua in nei paesi anglofoni quando vai e parli e rispondi alle domande si chiama così? si chiama anche da voi in provincia a Bologna si chiama così normalmente se vai a mangiare i torri dell'initi ti dicono ma facciamo prima un out town hall vuole ordinare voi lo fate in quelle se alle riunioni orrende noi in spiaggia esatto esatto però quello che lui ha detto è ma in realtà cioè come dire io li mando tutti a casa tendenzialmente però gli diamo due anni di buona uscita anche come dire carina piacevole ben ritribuite ci hanno due anni senza cattiveria amici come prima avete due anni per pensare cosa volete fare next sarete più felici nella vita la giustificata così però questa è la mia grandissima perplessità di tutta sta vicenda dalla mia minuscola esperienza in politica sul lato della comunicazione social il mio anno e mezzo a Roma è stato un incubo ad occhi aperti perché tu vedi che non è possibile fare niente niente cioè tu qualunque cosa dici domattina c'è ok sciopero globale totale basta vuoi ridurre questo settore sciopero ti blocchiamo tutto attacchi articoli insulti cause quindi come fai a fare qualche cosa mi domando come andranno a fare delle modifiche vere cioè importanti pesanti questa è la grande perplessità magari negli Stati Uniti è diverso e se si mettono dicono no rivoluzione facciamo tutto e non è detto che non sia uguale anche negli Stati mi piacerebbe capire da voi perché uno dei cardini chiaramente della politica di Trump è quella di deregolamentare di togliere anche efficienza deregolamentando che è sempre un'arma a doppio taglio sappiamo che in Europa noi almeno mi pare che sia vox populi che siamo un po' cioè diciamo più che regolamentati cioè vengono comunque è chiaramente un'unione che mette mette veti incrociati e stiamo diventando sempre più ingessati nel fare qualsiasi cosa è un po' il nostro problema che ormai si dice negli Stati Uniti in Cina si fanno le cose e noi tendiamo a regolamentarle perché poi effettivamente purtroppo non stiamo esprimendo tantissime cose di futuro come la vedete questa questione della regolamentazione applicata se possibile all'Europa all'Italia cioè non sarebbe una soluzione abbiamo provato tante volte se non sbaglio c'erano anche ministeri e deputati alla semplificazione non ha mai funzionato nulla ci siamo sempre e solo complicati la vita cioè se vedete l'incubo di fare impresa in Italia è noto non riesci cioè hai talmente tanti oneri oltre la tassazione il cuneo fiscale hai talmente tanti oneri regolamentari che praticamente tu butti metà della tua giornata lavorativa a pensare a quelle cose lì ed è una cosa che evidentemente toglie forza a chiunque come la vedete questa cosa della deregolamentazione ne abbiamo parlato forse negli ultimi vent'anni cioè ad ogni elezione ne parlavamo vabbè molto si è semplificato c'è da dirlo però oggi fai start up innovative si passi sempre da un notario se la piglio nel nostro senso dal nostro punto di vista quel ruolo secondo me Paolo l'abbiamo detto va demandato sempre più alle start up che ne so penso a le buste paga o al tema diciamo di gestione oggi c'è una start up per quello italiana ignoravo che il mercato dei consulenti del lavoro in Italia è di 4 miliardi quasi c'è Getijar una start up che non lo so come gli è venuta la passione di gestire quel mercato quello secondo me è demandato molto alle imprese e quindi ci vogliono leggi che semplificano ma ci vogliono anche idee perché molta gente si appassiona nel diciamo nel risolvere dei temi che sono difficili vedo che qui c'è una certa tendenza che ne so Fisco Zen è un'altra start up del famoso Vito Lomele di Job Rapido ma voglio dire che tra l'altro ha fatto una semi exit lui si è appassionato nel semplificare la parte burocratica per le partite IVA ho capito che software però come dire ci provano quindi d'accordo con te ci vuole però io ho sempre visto un'opportunità in quello quando le cose non funzionano e molti potrebbero anche voglio dire cioè partiamo da questo che si può in America partono con delle robe deregolate vedi Uber cioè poi al di là del casino che è successo qui è successo pure un bel casino lì Airbnb non era regolata però su quello che dici tu si ci vorrebbe però c'è un'opportunità anche per l'imprenditore secondo me vale la pena secondo me citare prima hai citato alcune cose più recenti ma vale la pena citare ad esempio che Daniele Eratti che aveva 18 anni ha iniziato fatture in cloud che nel 2013 ora 11 anni di differenza era il primo gestionale diciamo completamente nativo in cloud all'inizio molto semplice poi sempre più articolato poi acquisito chi l'ha comprato o fatture in cloud team system adesso ah bravo Daniele è stato bravissimo ah è stato bravissimo però per dire sono d'accordo Max però tu stai parlando di alcuni imprenditori che mettono delle toppe ai problemi diciamo di un paese molto complesso giusto? sì ma io stavo dicendo deregolamentare proprio a monte no? lo so il rischio perché chiaramente più molli più ci sono insidie di fare entrare però è anche vero che ormai siamo veramente troppo blindati su qualsiasi cosa ma blindati purtroppo non in senso positivo anche con dei nonsense guardiamo anche solo blindare le cripto su cui adesso credo l'ultima dichiarazione di Giorgetti sia stata se l'holding period è più alto è più lungo diciamo quindi non è più un investimento speculativo ma comincia a essere un esperimento cassettista allora rivedremo la no? il capital gain che adesso è stato detto al 42 no? cioè quindi un po' poi cose che comunque destabilizzano perché tu dici una cosa e tre settimane dopo ne dici un'altra no? e quella è la incompetenza però però ti immagini la scena Elon al prossimo viaggio in Italia che dice wow sai con Trump puntiamo tutti sulle cripto sulle bitcoin e l'altro che gli risponde ah noi le abbiamo tassate al 42 no ma sicuramente il risultato sicuramente ha influito su questi ripensamenti oltre al fatto che ci sono state miliardi di critiche in merito però era solo come dire cerchiamo anche di mettere laccetti o tasse ulteriori a cose di futuro di cui invece soprattutto i nostri giovani avrebbero bisogno anche per il ricambio generazionale che comunque c'è molto disorientamento e anche molta spinta ad andare fuori dall'Italia però non pensate che io in Inghilterra vedo la stessa situazione che c'è in Italia cioè non vedo una grande differenza adesso il budget c'è stata la Brexit quindi più di così c'è stata la Brexit e il budget ultimo peraltro una delle proposte poi non l'hanno fatta però era quella di alzare il capital gain praticamente a portarlo come fosse la income tax quindi cioè al posto adesso l'hanno alzato perché comunque c'è il 24% adesso di capital gain e l'idea è quella di alzarlo appunto sopra il 40% non l'hanno fatto però la mia sensazione è questa per arrivare a una situazione che veramente funzioni da un lato tu devi avere ha della gente molto in gamba perché devi avere della gente che si mette a analizzare il problema nel suo insieme e comprenda quali sono poi gli effetti primari secondari terziari cosa succede se faccio sta roba tra dieci anni vent'anni funziona meglio cioè devi avere persone super in gamba che analizzino l'intera situazione poi devi avere la capacità di poter incidere una volta che hai fatto il megapiano di dire ok adesso si fa così e viene fatto e questo è un altro enorme problema perché poi le cose invece si fermano e il terzo problema è un tema di durata cioè quando vuoi impattare veramente se stai al governo 12 mesi e poi ti mandano via che cosa cioè però ora ora c'è una solida voglio dire base e sono al governo adesso senza parlare di sinistra o destra perché poi non è che però come dice Paolo noi abbiamo avuto governi anche tecnici o comunque governi che hanno visto nel mondo tech delle opportunità è nata una legge voglio dire da un governo era il governo Monti tecnico perché c'è quasi questo secondo me è solo non competenza non è ostilità non li faccio così e lì l'abbiamo detto tutti è questione di persone prendi il Paolo il Pippo di turno o chi vuoi con competenze e gli chiedi pro bono o no e in realtà qualcuno sosteneva che devono essere pagati anche bene con dei bonus con degli MBO e devono essere cacciati facilmente e lo metti a farti aiutare no way qui non funziona così perché se va Paolo ad aiutare qualcuno Paolo è decisamente più bravo e viene fuori cioè non abbiamo neanche un ministero adesso noi che si occupa di queste cose quindi è non competenza ma l'onda che sta arrivando poi farà cambiare queste cose e c'è anche sì e c'è anche un tema di di misurazione del risultato cioè quando io sento le conversazioni qua in UK sul tema tasse alziamo che hanno alzato cioè ma tu mi devi dire qual è il risultato cioè ok paghiamo 20 miliardi più di tasse ma mi spieghi qual è il risultato cioè come misuriamo il fatto che quei 20 miliardi sono spesi bene perché non c'è nessuno che misura quindi nel momento in cui tutti questi bei discorsi poi riesce a misurarli e dire guarda Trump dice Elon efficienta il governo e questo toglie un triliardo di debito di costi anno o due triliardi cioè quello è un risultato chiaramente misurabile lo vedi entrata uscita però ecco non c'è questo questo aspetto qua se lanciassimo noi il nostro governo alternativo io potrei seguire scacchi e ping pong diciamo queste sono le due aree che potrei cercare di far crescere nel mondo ecco io ve lo segnalo insomma quando volete molto ministero degli scacchi esatto dove coinvolgerò tutti i più bravi perché io non so mica bravi coinvolgerò quelli bravi da scacchi però make scacchi great again togliamo il latino e mettiamo gli scacchi via 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 scacchi e un tavolo a ping pong in ogni casa questo è secondo me il programma con cui vinciamo probabilmente perché con questa questo desiderio tu Max di cosa ti occupi? io ma io voglio dire metterei casserei praticamente le macchie metterei bici se parliamo di cose papi ah già tu solo bici esatto bici dappertutto dappertutto e metterei trillion nell'istruzione punto trillion minimo proprio trillion taglia minima nell'istruzione non bici taglia minima e tu Pol che cosa fai? io pensavo di andare in barca a vela possibilità una barca per tutti io ho già dato al governo ho già dato sentite un altro settore che secondo me avrà un enorme impatto diciamo oltre ai media tradizionali che sono stati oggettivamente insomma massacrati da questa da questa elezione l'altro settore che mi sembra interessante segnalare è quello dei sondaggi sondaggi previsioni eccetera eccetera e ho sentito un gran parlare di Polimarket ovviamente i giorni Polimarket piattaforma di betting in sostanza dove tu puoi puntare scommettere su tantissimi argomenti e dire il prezzo di bitcoin sarà 200.000 dollari tra due giorni e vedi quanta gente scommette sì o no e se vinci la tua scommessa ovviamente porti a casa il grano fondato da questo ragazzo qua Shane Copland altra storia americana che faceva il college è andato ha lasciato perdere ha lanciato la sua startup però la grande discussione è che questa piattaforma ci ha preso clamorosamente e con grande anticipo sulla rielezione di Trump mentre invece i sondaggi più tradizionali o hanno preso cantonate o sono arrivati poi più tardi quindi uno dice ma se tu segui Polimarket lo sapevi già che Trump avrebbe vinto ovviamente uno dovrebbe dire magari hanno avuto culo in questa vicenda o magari è proprio il fatto che metti i mercati quando c'è di mezzo il guadagnare o perdere i soldi i mercati invece sono molto più attenti un po' come chi vince Wimbledon vedi i scommettitori vedi capire qual è la logica però anche questo è un settore che oggettivamente va a cambiare mentre fino a un po' tempo fa c'era il sondaggista io peraltro ho sentito un'intervista qua in Inghilterra un noto sondaggista che ha detto vince Kamala di sicuro vince lei perché io c'ho i sondaggi ho i dati abbiamo chiamato le persone vince Kamala però poi quel metodo lì è probabilmente un metodo che va a completare l'intervista ma su questo innanzitutto come funzionano ancora i sondaggi come hanno sempre funzionato ti chiamano a casa e ti chiedono come la pensi oppure premi uno per Kamala oppure ti beccano per strada metodi totalmente obsoleti e io ho provato a giocare con Poli Marche secondo me è una figata perché chiaramente tu ci metti dei soldi sotto forma di cripto quindi tu esprimi un qualcosa cioè voglio dire è un gambling come tu hai detto e quindi voglio dire vuoi che vinca e lì ci sono degli algoritmi tra l'altro hanno parlato moltissimo c'è una polemica sembra che siano stati su Poli Market un po' influenzati sembra che qualcuno ci abbia messo grosse quantità di soldi sopra però probabilmente è il futuro quello e si parla di aprirne altri mi ha fatto ridere ho letto su Wall Street Journal la storia di questo tio che ci ha fatto 50 milioni c'è uno che è andato lì ha biddato ed è quello tra i pochi che biddava sul Pennsylvania su Trump ora di lì a poi l'algoritmo ha dato evidenza perché ci ha messo abbastanza soldi questo potrebbe essere la nuova piattaforma i sondaggisti vecchi cioè anche di quelli che ti arrivano scusate voi fate i poll online o mettete vota quelle robe lì mi sembra superata io ogni giorno passo una mezz'oretta a fare il sondaggio a rispondere al telefono sì io in realtà assolutamente allora PoliMarket ma diciamo anche la scorsa la scorsa settimana che comunque anche il mercato delle scommesse stava indirizzando verso Trump e quindi questo faceva parte un po' di questo ragionamento si sta facendo addirittura le possibilità di vittoria su PoliMarket erano andate al 60% e subito dopo le prime diciamo prediction insomma le prime proiezioni è passato al 98% mi sembra che il primo giornale che abbia dato la vittoria quando ormai era scontata da ore è stato credo Fox News che ha detto che Trump ha vinto e mancava cioè era ormai scontato da qualche ora quindi chiaramente gli algoritmi che stanno dietro e l'espressione popolare vista in quel modo lì ha sempre ha sempre da cioè se vogliamo ha un che di tradizionale dai tempi dei bookmaker questa cosa perché comunque chi scommette in qualche modo mettendoci soldi fa anche dell'analisi lui stesso o i gruppi a cui partecipa quindi direi che sta cambiando il mondo dei sondaggi direi ma se vai su PoliMarket ti chiede ad esempio voglio dire how many Fed rate cuts this year quanti cuts farà la Fed rate l'Ethereum arriva a 10k OpenAI annuncerà l'IGI nel 2024 notare che ieri c'è stato l'abbassamento di un altro quarto di punto 25 punti base e vabbè questa è anche diciamo nella direzione della politica di Trump sempre sempre che si riesca a tenere sotto controllo chiaramente giusto dato a contorno PoliMarket ad oggi ha raccolto 70 milioni di dollari di investimenti due round di investimenti uno da 25 milioni Series A quindi Series A e Series B da 45 milioni tra gli investitori c'è vi dico alcuni nomi c'è Vitalik Buterin il founder di Ethereum c'è il fondatore di Eventbrite Kevin Hartz General Catalyst vabbè Founders Fund c'è dentro Airbnb Joe Ghebbia PoliChain New Form Capital One Confirmation sono un sacco di gente mi sembra che c'è anche Peter Thiel dentro si dovrebbe esserci Peter Thiel ho letto anch'io si si c'è dentro Peter Thiel alla fine poi sono sempre dentro gli stessi porca paletta anche J.T. Vance mi sono letto la storia J.T. Vance aveva un suo fondo di un centinaio di milioni con soldi di Eric Schmidt e Peter Thiel giusto cioè voglio dire è un'ondata tech di ramificazione i pochi addirittura ho visto che ne so Doug Leone che tra l'altro è venuto in Italia e ha avuto modo di conoscerlo il fondatore di Sequoia che ora si sbizzarisce su X dicendo non dovete nascondervi più c'è un outing bestiale adesso da parte tech Joe Gabbia sostenitore di Trump anche una gran ramificazione in questo senso è un buon pool direi di persone in gamba cioè voglio dire scusatemi ovviamente Peter Thiel è dentro perché c'è Founders Fund vi dico alcuni investimenti di Founders Fund siete pronti? SpaceX Palantir Stripe Anduril che è quello dell'ex founder di Oculus che fa i droni militari Facebook Airbnb Affirm Neuralink Spotify Trade Republic OpenAI Figma cioè praticamente tutti hanno beccati tutti Mannaggia Beccati non lo so Beccati AidSleep lì è più un tema del founder che li vuole dentro certo certo no dico beccati nel senso sono dentro a tutti a tutte le aziende più gigantesche che ci sono in circolazione ed è incredibile ecco avere questo livello di accesso anche di informazione pensi all'informazione che arriva a Peter Thiel ogni giorno insomma è diversa rispetto a quello che mi dà CagPT ma la sua versione di CagPT secondo me è Peter fatta per lui dove dice ok allora per te ti diciamo non le cazzate che diciamo agli altri ti diciamo le cose vere adesso ma no secondo me come funziona c'è un un ristorante famoso a San Francisco dove mi capita di andare e li vedi tutti lì in realtà invece di pagare il conto versi così un seed no esatto no ti volevi dire questo l'abbiamo detto se vai a Palo Alto cioè voglio dire per quanto ami la mia città Manfredonia ma è decisamente più bella di Palo Alto è un pozzo orrendo ci vuole poco se vai a San Nivel è così e forse aiuta qualcuno aveva detto in passato vivere in questi posti in cui non è che c'hai tutto questo entertainment quindi questi si vedono succede tutto lì e creano robe punto cioè New York non succede perché New York c'è più benessere sentite chiudiamo con un argomento che praticamente ho preso questo argomento solo per Paolo chat chat punto com dominio chat punto com è stato comprato è stato comprato da chi? da OpenAI allora a parte che era stato comprato da Dharmesh Shah si pronuncia il founder di HubSpot ed era stato comprato nel 2023 per 15 milioni e mezzo a questo punto loro l'hanno comprato da lui la mia domanda è Paul visto che tu come dire sei segnalo che che Paul ha il dominio paolo punto it lo segnalo ecco a chi non lo sapesse quindi posso segnalare un'altra cosa prima di dire dopo Nicky Grauso che non so se vi ricordate chi era certo era quello che registrava Andreotti pizza Paolo è il massimo esperto mondiale di domini ecco no è vero è vero cioè oggettivamente cioè chi ne sta più Dada e come dire era affascinato era incentrato per capire come 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 registrare un punto net nel 96 cioè era un mal di testa incredibile scrivere a tutti queste appunto associazioni appunto che che gestivano sia diciamo gli IP che che nomi e domini insomma che i vari allora io devo dire che avevo comprato una cosa simile a chat punto com ma avevo chat punto me che a me piaceva molto ma compri ancora domini tu Paul compri ancora domini no e ce l'avevo l'avevo comprato 10 anni fa 15 anni 15 anni fa credo 15 anni fa era chat punto me era il periodo in cui il punto M tirava molto che sarebbe poi il vabbè il dominio diciamo del Montenegro quello geografico del Montenegro e per molte cose chiaramente meceva molto con l'inglese di dire ok chat me o altre tipologie di verbi insomma non so non valeva quanto chat punto com ecco questo sicuramente però poi alla fine abbiamo fatto un progetto sopra che aveva a che fare appunto con delle chat che tra l'altro andava anche piuttosto bene poi però scalare non è mai facile e l'avevamo venduto venduto adesso non so nemmeno a che fine abbia fatto però sì allora sì io sono sempre stato appassionato di domini fin da proprio all'inizio quando non esiste ancora avevo domini punto it che era un'attività sempre di dada del 97 forse domini punto it prima di acquisire poi anche register punto it sempre nel non mi ricordo mai la cronologia delle cose però quindi ovviamente sempre registrato tantissimi domini nel senso quando ho lasciato dada mi pare che ne avessimo non so un milione e mezzo in gestione non so non vorrei dire ovviamente ne ha molti di più e secondo te quanto vale un dominio così nel momento in cui io ti vendo cia.com a openai allora un po' chiaramente hanno perso peso perché sono più delle vanity url perché poi alla fine a livello di indicizzazione sì va bene comunque chiaramente sei autorevole per la search di google perché è un dominio diciamo vita quello considerato vital vitale per il nome e il match del nome su cosa stai facendo quindi chat gpt è perfetto su chat.com vuoi parlare con qualcuno appunto con qualcuno in particolare con gpt e poi hanno semplificato il branding perché insomma anche i modelli insomma si chiamano one insomma adesso immagino che faranno delle cose un po' più comprensibili quando si espande il pubblico quanto possono averlo pagato direi che rispetto ai soldi che hanno alzato è abbastanza rilevante è più rilevante per quello che l'ha venduto se non sbaglio tra il funder di HubSpot e questa vendita c'è stato anche in mezzo un'altra transazione cioè mi sembra che lui a un certo punto l'abbia venduto a una cifra superiore a quella a cui l'aveva comprato però poi in giro c'è scritto che è stato pagato più di 10 milioni quindi come fai è totalmente negoziale la cosa perché evidentemente non puoi dargli un valore specialmente ora che forse hanno perso un po' di appeal per via del fatto che poi voglio dire hai le app hai mille diciamo suffissi e così via vi direi che l'ultima esperienza che ho avuto in merito è stata l'acquisto di vino.com per una startup che appunto ho aiutato a fondare e crescere ormai che da anni insomma stiamo seguendo e vino.com prima si chiamava vino 75 e poi abbiamo trovato che vino.com non era utilizzato ma era sul mercato e quindi dopo penso due anni di negoziazione devo dire che è andata molto bene queste trattative per i domini sono una roba allucinante nella mia vita ho avuto delle trattative clamorose dove tu parti e uno dice 3 milioni e tu dici no io c'ho 120 euro no 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 mezzo milione no guarda c'ho 120 euro e così no alla fine 300 euro sta bene a far fatto trattare 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 fino alla morte su alcuni domini altri domini chiaramente mi immagino sex.com puoi trattare poco ci sono dei domini che hanno un valore di partenza dove devi essere diciamo che peraltro scusami voice.com se non sbaglio era quello di michael saylor voice.com michael saylor che è il fondatore di microstrategy insomma mondo bitcoin molto potente lui l'aveva venduto per 30 milioni e si era lamentato perché diceva che probabilmente ne vale a 50 beh lì mi hanno dato solo 30 milioni però vabbè insomma meglio in generale in queste cose però ti fai affiancare da un broker di domini ci sono persone espertissime di questo che te li possono anche valutare quindi chiaramente anche io comunque alcune operazioni le ho fatte appunto con un amico broker che comunque insomma ne capisce tantissimo sì perché poi alla fine c'è un'intermediazione non vai diretto certo voglio il tuo domino la piattaforma di escro perché vai a scoprire subito che attività vuoi farci quindi è chiaro che se ci va GPT a comprare chat.com una cosa ci va un broker per una terza o un'altra non pensate che sia incredibile come uno può essere a posto finanziariamente per tutta la vita semplicemente basandosi sul fatto che un giorno decide di comprare pizza.it negli anni in cui era disponibile e lo compra per 30 euro e poi lo rivende a 3 milioni cioè è incredibile questa cosa non è fra le cose cioè non è fra le cose che ogni tanto pensiamo di non aver fatto in questi 20 anni direte sì i domini ci leggevo diversi anni fa ma ormai 20 anni fa che ad esempio avendo comprato tipo paris.com per le prenotazioni degli hotel o per qualsiasi cosa tu voglia fare a Parigi uno si metteva abbondantemente a posto con i referral diciamo con le commissioni che prendevi dalla redirezione dei link verso le piattaforme che appunto con cui puoi fare affiliation per cui avevi comunque degli introiti altissimi avendo fatto un'azione magari in un periodo in cui ti costava 10 dollari comprare un dominio ecco quindi perché è incredibile questa cosa mi fa sempre molto riflettere uno ragiona sempre sul fatto che deve lavorare duro no ti metti lì davanti ai domini e dici ok adesso metto lì e faccio il sito e poi faccio questo e magari uno invece sta fermo osserva compra tre domini sta fermo e dopo un anno è a posto cioè quindi c'è questo aspetto devo dire che idealizzando molto diciamo nel 95 96 96 idealizzando molto diciamo quello che stavo facendo io ho comprato domini importantissimi che valgono tipo architettura.it wow che per me era bellissimo perché sono architetto quindi no cinema.it non lo ricordo quindi avevo dei domini assolutamente come dire interessanti ma non per essere monetizzati ovviamente quando mi ricordo che al suo tempo ho preso i firenze.net mi ricordo anche ma per fare una sorta di rete civica locale no non con la logica no di dire prendo i firenze.com e no faccio ma se Elon domattina si decide di chiamarsi Paolo perché gli passa così e dice da oggi in poi io mi chiamo Paolo ti scrive e dice Paul voglio paolo.it a quanto io lo vendi no no c'è troppa poi dipende un miliardo due tre come dice Max meno di un trillio non puoi fare nulla grande sentite ci aggiorniamo alla prossima allora make primo poi great again ma sì alla prossima ciao ciao